A di colo. Linea sogni. Shade S. Gli effetti delle dune dorate, create dal vento. I riflessi delle onde argente al chiaro di luna. Decorare con lo stile e la fantasia di finiture e colori da sogno. Shade S è la nuova finitura, dell'apprezzata linea Shade. Un mix, tra una finitura liscia, ed una ruvida, che sa offrire contrasti e giochi di luce unici nel suo genere. Disponibile in tre basi oro, argento ed alluminio. Additivandole con gli appositi tinter, si potranno ottenere colori di arredo personalizzati di grande effetto. Miscelandole accuratamente, prima dell'applicazione nelle dosi indicate, dalla cartella colori. Onde ottenere un risultato garantito, su fondo asciutto e pulito, applicare a rullo o a pennello, una o due mani di fondo universale diluito al 20-30% con acqua. Shade S, può essere applicato con finitura ad isole, o striata. Finitura ad isole. Pennellare il prodotto in 4-6 punti della parete. Stendere il colore, tra un punto e l'altro, avendo l'accortezza, di lasciare più parte ruvida nei punti desiderati. Continuare ad applicare il prodotto, mantenendo lo stesso stile. Ad applicazione ultimata, i rilievi ottenuti, creeranno contrasti unici tra luce ed ombra. Finitura striata. Intingere il pennello, nel prodotto e stenderlo nella direzione prescelta, avendo cura di effettuare il movimento sempre nello stesso senso. Andando man mano, a coprire tutta la superficie da decorare. Una mano è generalmente sufficiente per ottenere la finitura ottimale. Eseguire le passate, evitando di fare un'eccessiva pressione con il pennello, lasciando zone ruvide nei punti desiderati. Ad applicazione ultimata si otterrà un grande effetto striato, tra zone ruvide e riflessi di luce. Inzo, inzo, inzo. Grazie a tutti.